Vigili del fuoco e sciopero anche all'Aquila oggi dalle 9 alle 13. Anche loro hanno aderito allo sciopero nazionale in città con ancora più motivazioni. Il CONAPO ha spiegato da tempo le motivazioni, l'assenza degli scatti a livello economico, il pagamento dei buoni pasto, la mancata equiparazione contributiva rispetto agli altri corpi dello Stato, il mancato potenziamento degli organici. All'Aquila però ci sono altri motivi in più per protestare come quello delle sedi ma anche il progetto per portare il comando provinciale all'interno della Casa Armarossi e non solo, anche la scuola nazionale a Sassa e a Sulmona va ancora peggio perché la sede attuale non è adeguata ed è ritenuta anche pericolosa. A tutto questo si aggiunge la carenza cronica di personale. All'Aquila abbiamo il problema ovviamente oltre a condividere problemi nazionali del resto dei nostri colleghi abbiamo i famosi problemi relativi alle sedi di servizio che sono ovviamente non solo quelli del comando provinciale di via Pescara ma anche quelli della direzione regionale Abruzzo che è accoppito. Sono due cantieri sostanzialmente fermi, quello della direzione regionale è fermo ormai da anni con il personale ridotto in un container e da anni ridotto in un container quindi due volte terremotato mentre quello di via Pescara è fermo non si capisce bene per quale motivo ma anche quello ormai da qualche mese che è completamente fermo. C'è anche il progetto della collocazione del comando provinciale nell'ex Rossi che cosa si sa al momento? Anche quello è un progetto che sembra andare a rilento? È confermato che il lavoro sta andando avanti e quindi quella sarà la futura sede dei vigili del fuoco ma anche in quel caso la leader burocratico è lentissimo quindi ci vorranno degli anni prima di andare e di vedere una nuova sede per i vigili del fuoco dell'Aquila e poi c'è il problema della scuola di Sassa, scuola di formazione che nonostante ormai da tre anni c'è un decreto del ministero dell'interno oltre che il decreto del governo che stabilisce che nell'ex ormai progetto casa di Sassa deve sorgere una scuola nazionale di vigili del fuoco anche lì come tutti possono vedere è tutto completamente fermo.